Il Consiglio regionale ha respinto una mozione firmata dai consiglieri di Fratelli d'Italia per far viaggiare gratis guardie giurate e forze armate, purché indossino la divisa d'ordinanza. Alla base dell'atto, la preoccupazione per la crescita di episodi di criminalità, vandalismo e delinquenza sui mezzi pubblici toscani e la volontà di garantire maggior sicurezza ai passeggeri. Un emendamento presentato dal PD, che chiedeva un intervento presso il Governo nazionale per attivare un fondo a favore delle regioni a questo scopo, non è stato accettato dai firmatari della mozione. Il PD ha così dichiarato voto contrario e l'atto è stato respinto con 21 voti contrari e 13 favorevoli. La sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico a livello regionale ci sta a cuore, ci sta molto a cuore come maggioranza e come gruppo del PD. E proprio per questo avevamo chiesto con un apposito emendamento, a mia prima firma, al gruppo di Fratelli d'Italia, al collega Veneri, primo firmatario della mozione che chiedeva la gratuità per gli aderenti a gruppi di vigilanza privata di poter usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale. E con un apposito emendamento abbiamo chiesto che ci facesse carico, tra le altre cose, di appellarsi al Governo futuro nascente per istituire un fondo che ristorasse le regioni tutte, dei mancati introiti rispetto alla gratuità per i componenti delle forze dell'ordine. La regione toscana fin dal 1998, legge 42 del 31 luglio 98, ha dato vita ad una convenzione con le forze dell'ordine tra le principali, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Penitenziaria ad esempio, della possibilità di viaggiare gratuitamente sui nostri mezzi di trasporto pubblico a livello regionale, siano essi su gomma o su ferro, al fine di garantire con la loro presenza una maggiore sicurezza per gli utenti, per i passeggeri e al tempo stesso anche per i personaggi di bordo. Questa convenzione funziona fin dal 1998 e consente ai gestori del trasporto pubblico locale di essere ristorati per i minori introiti legati al fatto della gratuità per i componenti delle forze dell'ordine. Quindi noi rispetto a questa mozione abbiamo presentato una serie di emendamenti e in narrativa sostitutivi o soppressivi e nell'impegnativa che il collega Veneri ha dichiarato anche in aula accettare per il 99%, salvo le ultime due righe con le quali noi chiedevamo di attivarsi nei confronti del governo perché si desse vita ad un fondo nazionale che consentisse alle regioni di poter ristorare questi mancati introiti ai diversi gestori. Per capirsi si ragiona di 450 mila euro, 500 mila euro l'anno che la regione toscana ad esempio ristora ai gestori di trasporto pubblico locale per poter consentire alle forze dell'ordine di poter viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Ripeto, la Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione perché a noi la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sta molto molto a cuore e quindi con forza chiediamo di istituire questo fondo che ci consente di allargare la platea degli usufruenti, la convenzione già in essere, anche ai corpi di vigilanza privata, anche agli uomini e le donne della guardia costiera, anche agli uomini e le donne della polizia municipale a tutti quei soggetti che con loro presenza o in divisa o in borghese, purché dichiarandosi al controllore o al personale di bordo della loro presenza, garantiscano la possibilità di poter intervenire laddove ce ne fosse assolutamente necessità. Si è persa una grande occasione di risolvere un problema che affligge coloro che utilizzano il sistema del trasporto pubblico toscano sia su ferro che su ruota e che è il tema della sicurezza, un tema che è da tanto tempo denunciato appunto da chi utilizza questi mezzi di trasporto, principalmente sono giovani, sono disabili, sono donne o persone anziane che vengono derubate, scippate, violentate e noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione. In questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate alla condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche e ha portato un emendamento che a parer nostro era irricevibile. Mentre noi dicevamo che la regione toscana che è l'organo competente alla gestione del trasporto pubblico doveva organizzare un tavolo per mettere d'accordo il gestore con chi fa sicurezza in Italia e a costo zero farli viaggiare gratuitamente per essere come detenzione nel trasporto pubblico, il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica mossa quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse, quindi a spendere nuovi soldi per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. Questa purtroppo sarà una prassi dei prossimi mesi, hanno già iniziato a farlo, ancora il governo non è formato e già loro vogliono impegnarlo su cose che noi non siamo ancora in grado di impegnare, comunque è peccato perché si è persa un'occasione per risolvere un problema a costo zero. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro, è un elemento positivo, credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane se anche dal livello nazionale si possa sostenere questa che è una misura che a nostro avviso è positiva. Era una proposta di buonsenso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle forze dell'ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti, naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro. Lo fanno già molte regioni, lo fa la regione Lombardia, lo fa la regione Abruzzo, lo fa la regione Campania, lo fa la regione Sicilia. Oggi abbiamo scoperto che il Partito Democratico è contro le forze dell'ordine. Era di buonsenso per una serie di motivi, il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto, sui treni, sugli autobus, sul trasporto di linea, sul TPL pubblico, per i cittadini che montano sull'autobus e che molte volte si trovano stagio di borseggiatori, magari di piccola delinquenza, di piccola criminalità. Avere la presenza delle forze dell'ordine indivisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto che non lo possiamo fare perché costa, a prescindere dal fatto che la sicurezza per il centrodestra e per Forza Italia non è mai un costo, ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. L'elemento che abbiamo detto è che se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pulma, che salgono sul trasporto pubblico, che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella scifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. Indubbiamente il tema della sicurezza sui mezzi pubblici di trasporto è un tema centrale. È un tema che oggi vede coinvolti cittadini, molto spesso donne, persone deboli, che si ritrovano in situazioni anche di evidente pericolo. Quello che chiedeva la mozione era di favorire in qualche modo e di dissuadere, anzi, attraverso la presenza di personale indivisa sostanzialmente appartenenti anche agli istituti di vigilanza, che in qualche maniera fossero da dissuasore di certi tipi di comportamenti. Personalmente credo che, ad esempio, la presenza anche delle forze armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo, si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi ecco, anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale a cittadini dell'attenzione, ripeto, su un tema che oggi invece è fondamentale. Garantire la sicurezza degli utenti su autobus e treni. Questo per noi è fondamentale e evidentemente per la maggioranza non lo è. La questione dell'elevato numero di multe nel Comune di Firenze, che nel 2021 sono state 81.000 a fronte delle già oltre 400.000 del 2022, ha fatto molto discutere ed è entrata anche in Consiglio regionale, dove sono state respinte due mozioni a riguardo. Una presentata da Marco Stella di Forza Italia e una dai consiglieri di Italia Viva. Io che oggi abbiamo assistito in aula a un dibattito surreale sul tema degli autovelox e delle multe nella città di Firenze. Un partito democratico che si trincera dietro un non è tema regionale quello che sta accadendo a Firenze. A Firenze sta accadendo un problema gravissimo. Lo scorso anno, parlo delle multe ovviamente ricevute dai cittadini dai nuovi autovelox, lo scorso anno, in un anno intero, sono state fatte 81.000 multe. Quest'anno, ad agosto, eravamo già a 400.000. Quindi se non è un problema, come tutti i colleghi del Partito Democratico si sono stralciati le vesti nel difendere le scelte di Nardella, dell'amministrazione comunale, sulla legittimità di questi autovelox. Se questi autovelox sono legittimi, evidentemente siamo di fronte a un problema sociale. Ci sono 320.000 fiorentini che fino allo scorso anno hanno guidato impeccabili e rispettosi del codice della strada e quest'anno improvvisamente si sono tutti riscoperti dei novelli di Lewis Hamilton e sfrecciano per le strade della città. Quindi o c'è un problema sociale, quindi all'improvviso la città di Firenze è impazzita, oppure evidentemente qualcosa non va. Qualcuno pensa di fare i bilanci comunali con gli autovelox, pensa di fare i bilanci comunali con le multe e questo è un problema sì, vero, della città di Firenze. Ma il Consiglio regionale ha il dovere di vigilare su questo. Ha il dovere di decidere questi soldi che i comuni incassano come destinarli alla sicurezza stradale. Perché il tema della sicurezza stradale è un problema enorme. E guardate, nel dibattito è stata citata dieci volte via Pistoiese come la strada più pericolosa della regione. Via Pistoiese è una strada che dovrebbe fare giurisprudenza ogni volta si parla di sicurezza stradale. Perché l'amministrazione comunale ha pensato di risolvere il problema di via Pistoiese infarcendola di rotonde. Sono morti o due o tre persone. Allora via le rotonde si fanno disparti traffici, via gli sparti traffici si fanno gli attraversamenti rialzati. Ogni giorno si cambia metodo di risolvere il problema. Via Pistoiese resta la strada più pericolosa della regione e via Pistoiese in apertura a un autovelox. Da sempre. Quindi evidentemente prevenzione e sanzione da questo punto di vista non vanno di pari passo. Firenze è diventata un vero e proprio multificio. I dati lo dimostrano. Nel 2021 80.000 contravvenzioni dagli autovelox. Nel 2022 in soltanto otto mesi oltre 400.000 contravvenzioni. Guardate, 4 autovelox in tre mesi hanno fatto 237.000 multe. Se continuiamo con questo trend Firenze potrebbe essere la città più multata d'Italia, potrebbe arrivare a un milione di multe, potrebbe mettere in bilancio nel Comune di Firenze oltre 100 milioni di euro. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Quegli strumenti dovrebbero servire per prevenire gli incidenti, invece oggi servono soltanto per fare cassa, oggi servono soltanto per mettere liquidità nelle casse del Comune, magari per ripianare qualche ente o qualche fondazione che è in costante deficit. Mentre noi pensiamo che gli autovelox devono essere lì per prevenire gli incidenti. Oggi i dati ci dimostrano che, numero uno, gli incidenti nel Comune di Firenze dove ci sono gli autovelox abbiamo le strade con più alto tasso di incidenti. Penso a via Pistoiese, penso a via Le Guidoni, penso a via le 11 agosto. Tutte strade dove ci sono delle varie contravvenzioni e a succedere incidenti. Credo anche che non è che i cittadini sono diventati tutti scemi. Gli autovelox stanno nelle stesse posizioni dello scorso anno ma fanno 10 volte più di multe. Noi abbiamo contravvenzioni a 51, 52, 53 km orari. Abbiamo scritto al Prefetto, abbiamo chiesto di fare una verifica sulla talatura e sulla tolleranza, ci viene il dubbio che sia stata abbassata la tolleranza, magari prima era un po' più alta perché non abbiamo mai visto multe al 51 km orari. E c'è anche un tema sociale, ci continuano a scrivere, stamattina mi ha scritto una persona che ha ricevuto 35 contravvenzioni, 1900 euro di multe che guadagna 1500 euro. Due figli e una moglie che non lavora. Se non è un tema sociale questo, a me ditemi qual è il tema sociale. Io sono convinto che il sindaco Nardella usi gli strumenti di rilevazione soltanto per fare multe, usi gli strumenti di rilevazione soltanto per mettere soldi all'interno del bilancio e abbiamo chiesto al sindaco, iscriveremo al prefetto, per chiedere una moratoria. Perché se lo scorso anno si facevano 80 mila contravvenzioni, se quest'anno si potrebbe arrivare ad oltre un milione di multe, qualcosa che non torna c'è. E allora chiediamo una moratoria vera, cioè che al cittadino venga consegnata la contravvenzione, che si paghi solo la prima multa, come dice la giurisprudenza e come dicono i giudici di pace, perché se uno ha 25-30 multe deve valere il principio della prevenzione. Si paga la prima multa, lo strumento deve essere uno strumento preventivo e le altre solo le notifiche. Perché se così non si dovesse fare, si conferma la nostra tesi che si usano gli autovelox non per prevenire gli incidenti, ma per fare cassa. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza, con 22 voti favorevoli e 15 contrari, il bilancio preventivo 2022 pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale di sanità. L'atto è stato illustrato dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del PD, che ha ricordato come il totale del valore della produzione si è fissato in circa 5.696.000 euro per il 2022, in 3.960.000 euro per il 2023 e 3.622.000 per il 2024. Bisogna distinguere che ci sono due atti. Una sono quelli degli atti di indirizzo sull'attività scientifica dell'Az che abbiamo dato nello scorso Consiglio regionale, nel quale tra l'altro essendoci un avanzo d'amministrazione di oltre 80.000 euro in Ars a riprova della buona gestione, 70 le abbiamo destinati proprio, ma questo nello scorso Consiglio, ad un'analisi su tutta la Toscana, l'avvio di una ricerca su quello che è lo stato del benessere psicologico dell'infanzia e adolescenza e la diffusione dei servizi pubblici e privati su tutto il territorio, perché è un tema emergente forte che riguarda tante famiglie, tanti ragazzi, tanti bambini e quindi abbiamo necessità di avere dati più compiuti. Oggi invece abbiamo approvato il bilancio, un bilancio di 5 milioni e rotti di euro con un contributo di 3 milioni e 4 da parte della Regione che è lo stesso da anni, quindi anzi quest'anno è stato ridotto di 150.000 euro, nonostante questa riduzione del contributo Ars è riuscita a produrre lavori scientifici e tutti noi conosciamo che i cittadini stessi possono apprezzare collegandosi al sito di Ars, quindi un bilancio regolare, abbastanza piccolo e che ovviamente ha tra le sue voci maggiori quella di acquisto di servizi, cioè ricerche da parte di ricercatori delle varie università e spese di personale. Questa è la maggiore voce e tra l'altro c'è stato un equivoco sul costo della sede di Ars, ribadiamolo, Ars paga 128 euro all'anno di spese d'affitto perché è una sede regionale e la Regione per una serie di accorgimenti contabili negli scorsi anni è riuscita a far pagare solo questa cifra. Il lavoro di un'agenzia come Ars è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti, alla salute dei toscani ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno agli indirizzi politici che vengono espressi perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione se non addirittura peggiorati e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia perché sono problemi di vecchia data, abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. Ars in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta, cosa che evidentemente non gli può essere permessa trattandosi appunto di un'agenzia regionale e quindi ci troviamo anche ad avere delle azioni che vengono indicate in maniera generica e senza indicatori, non si riescono a avere dei monitoraggi anche un accesso ben preciso a tutti i dati che dovrebbero essere monitorati persino nelle aree SIN dove ci sono delle evidenze epidemiologiche di problemi legati a delle circostanze ambientali che non si riescono a identificare bene proprio per un lavoro che non si riesce a fare in maniera accurata. Ecco noi non ci sentiamo di dare responsabilità ai tecnici di Ars per questo ma sicuramente a una politica che per quanto riguarda la sanità in Toscana non riesce a vedere oltre ai bilanci, al denaro, alle posizioni di primari in alcune cattedre addirittura, in alcune zone addirittura più primari per la stessa specialità, insomma questioni di carattere generale che Arse potrebbe identificare e inquadrare meglio per un'azione in un certo senso ma che fondamentalmente la regione Toscana non vuole che sia fatto per continuare a procedere a gestire la sanità e i miliardi che vi girano intorno nel modo in cui ha sempre fatto.